Bene ragazzi, qui Dido e oggi andiamo con Alice, quindi allora Avevamo nella scorsa parte aperto il geyser, no? Mi pare di ricordare Quindi dobbiamo... Aia! È seriamente successo quello che ho appena visto, ma seriamente, ma dai, dove siamo? Wow, mi sa che ci ha fatto comparire dalla parte giusta? No, dalla parte opposta proprio! Baffanculo gioco! Ah no, è vero, siamo dalla parte giusta perché ci ha fatto comparire proprio dove dovevamo arrivare Quindi ok, grazie signor arciere magico del cazzo Vespa d'inchiostro... Pfff, normale ragazzi, normale Chi non vede le vespe d'inchiostro nella propria tazza del cesso quando si alza al mattino? A parte che le ho tipo uccise tutte già Ok, vita Vieni qua Salve Ok, salve Ma io ho paura che nascano dalle tombe Dov'è? Eh sì, vedete, bisogna spaccare queste... Aia! Ma dai, ma da dietro Ma muori! Ho detto muori! Salve Presa! Boom, bigliaci E qua spunta un fungo, sicuramente E olè ragazzi Quanta sapienza in un solo uomo sexy, ragazzi Ok, basta, no Avete un po' rotto il cazzo Ma basta Ma basta Avete rotto veramente il cazzo Ma smetti Ma basta mirare! Madonna che ho comandato Questa cosa Ho fatto di fare! Basta! Madonna! Oh, ma basta anche te! Presa subito così Ho detto presa! Oh, ok E cazzo Ho detto presa e rimani presa Ma Da dove sei spuntata te? Ok Ok, dobbiamo andarvi qua? Casa degli... Un'altra di queste cose inquietanti Ok, nella scorsa parte La scorsa volta che siamo entrati in una di queste ostriche vagine strane Ok, non mi aspettavo Cosa significa tutto ciò? Ma cosa? Uccidi un uomo di tua madre Ma cosa vuol dire? Ok, uccido, immagino Spara qua a fare! Ok Colpiamolo da qua Così siamo tutti pro Spara qua a fare Brava E ora No, mi sa che da qua E infatti Non può manco arrivarci Spremo pure a quell'altro Ok Ora spremo a ste libellule della minchia Aia! Ma perché dovete rompere il cazzo? Ma basta! Minchia A parte che non le prende Non le prende ragazzi È tipo strabica Fatto! Ma guarda quanto è inquietante! C'è il coniglio Il cappellaio E basta Successo Ecco poi sto scritto per un secondo Cosa vuol dire? Prendi la vernice della roda Ah! Sono quelle là che mi si aprono Oh cav... Ricordate qual è adesso? Ok Questo dimostra che siamo a metà gioco Ci verrà dei mici? Usa il cavalluccio Grazie mille gioco Many 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 grazie Quindi dovevamo andare di qua? Eh sì C'era un fungo Wow Figata però Ok Vuol dire che Non abbiamo persi altri Oppure questo Comunque è fortemente inquietante Rompiti Bomba Grazie Così questo gira E posso uscire Olè Qua un fungo Sì un fungo blu Addirittura È vero è vero Mi ricordo Ci stavo pensando E mi ricordo bene I fungo blu sono quelli che vi sparano a fanculo Qua c'è L'ultima volta che abbiamo fatto uno scivolo così Poi c'è stata la rovina colossale Che rompeva il cazzo Quindi cerchiamo di stare pronti al boss Che quasi sicuramente c'è tra poco Aia Sì ma io volevo fare la scorciatoia Bene ragazzi Guardate che pro Guardate che pro Bene Cioè Guardalo Guardalo Non so se mi spiego Così si fanno gli scivoli in questo gioco Così E poi si atterra No Non l'ho Questo gioco Madonna però Quanto è fatto male a volte Vi giuro che Non l'ho fatto io Smettere di Fare il volteggio in aria L'ha fatto lei Di sua spontanea volontà Sta gran troia di merda Sta gran troia Con la R moscia Ma porca puttana però Cioè ma che palle sinceramente Quando i giochi Quando sto gioco Sto gioco fa così E si comporta come minchia Vuole lui Che palle Che palle Quadrate Mephistofeliche Allora Secondo me si doveva arrivare Su quel coso Rosso gigante Ma dato che Esatto Ma dato che non ero sicuro E dato che sto gioco Vi fotte Perché si Allora è meglio fare così C'è un comodino Ok dobbiamo arrivare al bong gigante E lì si ha dei particolari Come dire Interessi Ha dei interessi molto particolari Ok Comunque è cari carino Il cassetto che si apriva Anzi la cassettiera Che si apriva E i cassetti Che erano La scala Cosa accade? Te muori Te muori Tipo Ok Prima di subito Proprio Immediata subito Bravo Bravo Ecco Madonna sti scemi pagliacci Scemo pagliaccio Cioè 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 Sei poco swag Ok qua c'è un'arena Mi sa Avete rotto il cazzo Ok Il cazzo proprio Vedic You You broke Vedic L'avete Proprio fisicamente Rotto Quello è rotto Non ce neanche sicuramente Una No Ma che cazzo vuoi te? Ma che cazzo vuoi te? Si Massacralo 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 che Gli togliamo tutto 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 Olè E l'ho anche mancata Presa Ricaricati Ora Vai Buono Ok Arena più facile di sempre No Ancora Cosa c'è? Ma dai Comunque mi ha preso Lo stronzo E olè Qui mettiamo l'affare qua Ok No Aspetta 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 Lo facciamo Così E ci saltiamo Da qua Ok Ho avuto una Gran cattiva idea Ok Ne mettiamo un altro qua Bene Aveva fatto un bug Incredibile Olè Olè E olè Più easy di così Ragazzi Più easy di Cosa accade Cosa accade No No Perché Lo stai rifacendo Ritirala Ritirala Ok Dobbiamo per forza Andare di qua Perché È una roba nuova Però è strano Che ce lo faccia fare Due volte Che ce lo faccia Rimettere a posto È molto strano Cerchiamo di non prendere L'acqua Che non mi fido Statue di giapponesi Che piangono Ma io sono giapponese No Secondo me c'è solo Una bottiglia Quindi vaffanculo E qua Aha C'è una piattaforma Ok Ci provo senza vedere Ok Me la sono andata a cercare Questa volta è colpa mia Ma se è colpa mia Mi va bene Ecco È quando non è colpa mia Che non mi va bene Voilà Voilà Qui è dove è il dente Quindi è facile E ok Voilà Cosa fa questo? Fa spuntare qua un fungo Ma non è che siamo così difficili Questi cosi a tempo Cioè nel senso Wow Devo saltare sotto Prima di 30 secondi Incredibile Ok No Ce l'ha fatto No Non l'ha fatto Non si è posata Sulla tessera Del Della sua mamma Troia Quella gran puttana Di merda Che palle Che palle Che palle Cioè ma Seriamente Devi fare cose così Stupide Eh Alice Perché Perché sei stupid Ma perché mi Fa saltare storto Cosa colpisci L'aria Vai Se mica un trickshotter Cioè Ma perché me l'ha fatto andare via Vai Rimettilo su Ok Saltiamoci al volo Olè Ragazzi MLG Pro player Ragazzi MLG Motherf Ok Di là niente Ok Credo almeno No No mi sa che era una bottiglia Porta Incredibile Ok Andiamo Cioè siamo ancora in tempo Sì siamo ancora in tempo Ok Lidl Via Andiamo al Lidl E compriamo la salsiccia Oreste mi ha salvata Sono sopravvissuta Perché Mi ha mostrato La via di fuga Non ho lasciato La lampada in biblioteca E Oreste non l'ha rovesciata Oreste e la lampada Erano di sopra Quando sono andata a letto Lui era con me Quando è scoppiato l'incendio Attenzione però Allora Questa cambia Cambia tutto però Perché sta chiave Non fermate mai Quando affronti La rovina colossale Grazie gioco Grazie Where are we C'è una noce C'è una noce Sì mi sa che le noci Si rompono solo Con il martellone Ci sono delle Vespe Che picchiano la gente Ma quanta Quanta cattiveria Ok Ma siete cattive Però E una E due E tre Fatto È stato un combattimento Così avvincente È terribile Oh grande Brucalimpo Perché ci hai abbandonato La porta è chiusa Solo il suono Della giusta sequenza Di campane La può aprire OMG Un dubbio Un dubbio Un ore No Ancora sta cosa È imbarazzante Sì sono pronto Ok vai Olè Ma la fa Quanto è triste Sta cosa Ma la Ma la X Non fa suono Tipo Basta Ti prego Ok Ma è brilla Brilla la scintilla Non brilla 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 La scintilla Brilla In fondo Al mare Venite Bambini Venite Bambine Non lasciatevi Fregare Prendetevi Per mano Scusate Puttana 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 La maestra Scusate Salve L'ho preso con la bomba Ragazzi Io non ci credo Vi giuro Non l'ho fatto apposta Volevo schiacciare R2 Invece ho fatto il tasto R2 Il tasto del cannone Invece ho fatto il tasto della bomba Non ci credo Vi giuro Ok Sono il più forte Cazzo Ce n'è un'altra Eccola là Spariamogli subito Prima che Bene Ora ci possiamo Conciare Quanti sono Ci concentriamo Su questi Veloce 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 Basta Quante ce n'è Basta Olè Best player ever No Immagino Dai Best player ever Ancora ce n'è Bastardi No Il dente d'oro Ok Dov'è Suka È impossibile Che ci ne siano ancora Ci devono là Stronzo Guardalo Quanto tempo Vaffanculo Anche lui spara Però Alice Brava Alice E ora Ok Gira il coso Salvataggio Noi direi che ci possiamo fermare qua E ci vediamo nella prossima parte Quindi Anzi aspetta Non so se è un salvataggio O è un checkpoint È quello Quindi per sicurezza Andiamo fino all'altra parte E vediamo cosa c'è Vediamo cosa c'è Ah vedete c'è un coso blu Quindi si cambia ambiente Quindi poi c'è sicuramente un salvataggio Quindi spengo adesso Ok c'è un C'è un altro Scivolo Facciamocelo Così almeno Almeno ci dovrebbe essere un vero salvataggio Io posso spegnere Stando tranquillo di non dovermi rifare Pezzi giganti di gioco Madonna però Che salti stavo facendo ragazzi Quanto Quanto erano pro i salti che stavo facendo Ok qua non posso farmi cadere Qua nemmeno Qua neanche Qua mi pare Non di no Siamo arrivati OMG no Please No Niente arene Niente grazie Grazie Eh là Cosa accade lì Cos'è sto posto gigante Ok direi che adesso Ci vediamo nella prossima parte Perché qua mi sa che sarà lunga la cosa Dammi un salvataggio Ti prego Non mi da il salvataggio Prossima parte Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti